Verso il risorgimento, le lotte contro la restaurazione Parole chiave Restaurazione, ricostituzione delle monarchie Moti, lotte per l'autodeterminazione Carbonari, membri di una società segreta Insurrezioni, moti collettivi di ribellione Federalismo, insieme di entità autonome Patrioti, persone votate all'idea nazionale I nomi del risorgimento sono vivi, sono dentro di noi, ci appartengono Ovunque vada, in questo lungo viaggio in Italia Mi rendo conto che gli italiani sono sempre orgogliosi della loro storia Carlo Azzeglio Ciampi Il congresso di Vienne I principi del congresso Legittimità I sovrani devono tornare a capo dei rispettivi stati In particolare il sovrano francese Equilibrio Nessuno stato deve usare più forza degli altri Principio affermato dall'Inghilterra per garantire i commerci La Santa Alleanza Austria, Russia e Prussia si uniscono nella Santa Alleanza Creano alcuni stati cuscinetto tra loro e la Francia Non viene tenuto conto dei popoli coinvolti Giuseppe Mazzini Dopo le lotte del 1830 in Francia e Spagna Nel 1831 l'ex Carbonare in esilio forma la Giovane Italia Coinvolge le masse per creare una Repubblica democratica unita e indipendente Le insurrezioni falliscono I modelli di Stato Giovane Italia Mazzini proponeva di costituire una Repubblica democratica Unita e indipendente dallo straniero E con il suffragio universale Federalismo Giacoberti e Cattaneo proponevano un'Italia formata da tanti stati autonomi Ma federati Come gli Stati Uniti Stato Savoia Camillo Cavur sostiene uno Stato unitario monarchico guidato dai Savoia Carlo Alberto concesse alcune riforme liberali seguito dal Papa e dal Grun Duca di Toscana Cosa accade? La risposta austriaca Il maresciallo Radetzky comanda l'armata austriaca nel Lombardo Veneto e occupa Ferrara Le richiesta Carlo Alberto I patrioti italiani chiesero di dichiarare guerra all'Austria e di liberare il Lombardo Veneto Per approfondimenti Si suggeriscono i siti di Rai Cultura Parliamo Italiano Prezzi Grazie della visione Se vi è piaciuto il video mettete like O iscrivetevi al canale Alla prossima lezione Alla prossima lezione